Ciao Delfini, benvenuti nell'ultima puntata di Gratta la Mappa. Oggi, come promesso, gratteremo la mappa del mondo, la più bella e particolare di tutta la serie. Mi raccomando, guardate il video fino in fondo. Come sempre, è presente anche Nina, che oramai vuole essere partecipe di tutti i video. Iniziamo! Questa, a differenza delle altre mappe, ci dà anche gli strumenti per grattarla e per bloccarla al muro o su un tavolo. Come potete vedere, è anche molto più grande! È grandissima! Adesso andiamo a bloccarla. Essendo la mappa del mondo, gli stadi sono tantissimi. Ma per la maggior parte di loro, grattando, vedremo apparire qualcosa di caratteristico. Questa mappa, a differenza delle altre, ha una qualità molto superiore. Infatti, come potete vedere, dopo aver grattato, non resta alcun residuo e quindi non sarà necessario pulirla con la gomma. Grazie a tutti! 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 Allora, questa è decisamente la mappa più bella e non poteva che essere lei a chiudere la serie Gratta la Mappa, almeno per ora. Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio il link in descrizione per acquistare la mappa, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Dato Alpina e alpina e alpina, ci vediamo al prossimo video, ciao!